Il Veneto Una regione che incanta per la sua bellezza. Con i suoi paesaggi mozzafiato, le sue città ricche di storia e la sua tradizione culinaria unica al mondo, il Veneto è una terra che sa conquistare i cuori di chiunque vi metta piede. In questo video vi accompagneremo alla scoperta delle top 5 città del Veneto, e vi daremo un piccolo bonus finale, per un viaggio cinematografico che vi lascerà senza parole. Ogni città che visiteremo ha la sua anima e la sua bellezza unica, e non vediamo l'ora di mostrarvela. Sarà un'esperienza emozionante e coinvolgente, in cui avrete modo di scoprire ogni angolo nascosto e ogni dettaglio che rende queste città così speciali. Prima di cominciare, se il video dovesse piacervi, lasciate un like ed iscrivetevi al canale, per aiutarci a migliorare sempre più la qualità dei nostri contenuti. Cominciamo Il nostro viaggio inizia ora, nella terra del Veneto, dove la bellezza si fonde con la storia e il passato si unisce al presente, in un perfetto connubio di colori, profumi e sapori. Venezia È una città senza eguali, una meraviglia unica al mondo. Quando si cammina per le sue strade, si ha la sensazione di trovarsi in un sogno, circondati dall'incanto di una città che sembra galleggiare sull'acqua. La città si snoda lungo i suoi numerosi canali, con eleganti palazzi che si affacciano sulle acque cristalline. Lungo le rive, si possono ammirare le tipiche gondole veneziane, con i loro gondolieri in divisa a strisce bianche e nere. Il fascino di Venezia risiede nella sua storia e nella sua architettura, che riflettono la sua lunga tradizione artistica e culturale. Venezia è famosa per i suoi splendidi ponti e piazze, come il Ponte di Rialto, il Ponte dei Sospiri e la Piazza San Marco, con la sua maestosa basilica e il suo campanile che si ergono verso il cielo. Ma Venezia è anche una città intima e romantica, con stretti vicoli e calli che si aprono su piccole piazze nascoste, dove si possono trovare caffè tradizionali e ristoranti tipici, dove assaggiare la cucina veneziana, ricca di sapori e tradizioni. Una visita a Venezia è un'esperienza indimenticabile, che lascia un'impronta nel cuore di chi la visita. Venezia è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, dove la bellezza e l'arte si fondono in un unico incanto, creando una città senza tempo, capace di affascinare e incantare ogni visitatore. Verona È una città incantevole, situata nel cuore della Regione Veneto, famosa in tutto il mondo per la sua storia, la sua arte e la sua bellezza. La città è circondata dalle colline verdi della Valpolicella e attraversata dal fiume Adige, che la rende ancora più affascinante. Verona è una città ricca di tesori architettonici, come l'Arena, uno dei più grandi e antichi anfiteatri romani del mondo, e la famosa Casa di Giulietta, dove la leggenda di Romeo e Giulietta è stata ambientata. Ma Verona è anche una città con un patrimonio culturale straordinario, con importanti musei d'arte e numerose chiese e basiliche che risalgono a epoche diverse. Il suo centro storico è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO ed è un vero e proprio scrigno di tesori, con piazze antiche, strade strette e tortuose, e splendidi edifici storici come la Basilica di San Zeno e il Castelvecchio. Inoltre, Verona è anche la città dell'amore, dove ogni anno migliaia di coppie si sposano e festeggiano il loro amore, in una città che ispira romanticismo e poesia. È una città che conquista i cuori di chi la visita, un luogo dove la bellezza e la cultura si fondono, creando un'esperienza indimenticabile per ogni visitatore. Padova È una città dalle radici antiche e dalla forte tradizione culturale. Conosciuta come la Città del Santo, Padova è famosa per la Basilica di Sant'Antonio, una delle chiese più grandi e maestose d'Italia, che accoglie ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo. Ma Padova non è solo questo. È anche una città universitaria, con una delle più antiche e prestigiose università del mondo, fondata nel XIII secolo. È anche una città dalle bellezze artistiche ineguagliabili, con tesori come la Cappella degli Scrovegni e il Palazzo della Ragione. Ma Padova è anche una città viva, con un'offerta culturale e di svago molto ricca, con numerosi teatri, cinema e locali alla moda. In ogni angolo di Padova si respira un'atmosfera unica, fatta di storia, cultura e innovazione, che fa di questa città un vero e proprio gioiello del Veneto e una meta turistica ambita da visitatori di tutto il mondo. Vicenza È una città di grande bellezza e raffinatezza. È stata riconosciuta dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità per la sua architettura e urbanistica. Il Centro Storico di Vicenza è un vero e proprio museo a cielo aperto, con un'ampia selezione di edifici storici, palazzi e piazze, ognuno dei quali presenta una propria unicità e bellezza. Tra i luoghi più celebri della città troviamo la Basilica Palladiana, la Torre Bissara e la Piazza dei Signori, caratterizzata dalla statua del grande poeta italiano, Torquato Tasso. Inoltre, Vicenza è famosa anche per i suoi magnifici giardini, tra cui il Parco Querini e la Villa Valmarana Ainani. Ma Vicenza non è solo questo, è anche una città viva e pulsante, con un'ampia selezione di ristoranti, bar e locali notturni, e una vivace vita culturale, con numerosi eventi e festival che si svolgono durante tutto l'anno. In ogni angolo di Vicenza si respira un'atmosfera elegante e raffinata, fatta di storia, arte e cultura, che rende questa città un vero e proprio tesoro del Veneto e una meta imperdibile per chiunque desideri scoprire le bellezze dell'Italia. Cortina d'Ampezzo Situata nel cuore delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo è una delle destinazioni più famose e affascinanti delle Alpi italiane. Circondata da maestose vette che raggiungono i 3.000 metri di altezza, questa incantevole cittadina è stata la sede delle Olimpiadi Invernali del 1956, e ancora oggi è una meta privilegiata per gli amanti degli sport invernali, ma non solo. Cortina d'Ampezzo offre anche una vasta gamma di attività culturali, gastronomiche e naturalistiche, che la rendono una meta ideale per tutti coloro che desiderano godere della bellezza e della tranquillità delle montagne. Da non perdere la spettacolare vista panoramica dal Passo Falzarego, la maestosa Torre dei Caduti, simbolo della Resistenza italiana, e il delizioso Centro Storico, con le sue vie acciottolate e le caratteristiche casette in legno. Cortina d'Ampezzo è una meta da sogno, che merita di essere visitata almeno una volta nella vita. Passiamo adesso a due città bonus, che non abbiamo inserito tra le prime 5, ma meritano sicuramente di essere visitate. Stiamo parlando di Bassano del Grappa e Asolo. Bassano del Grappa è situata ai piedi del Monte Grappa, nel cuore della regione Veneta. Questa città è famosa in tutto il mondo per il suo celebre liquore, la Grappa, ma non solo. Bassano è anche un luogo ricco di storia e cultura, con un centro storico caratterizzato da eleganti palazzi storici e da un ponte coperto in legno che attraversa il fiume Brenta. Il centro storico di Bassano del Grappa è un vero e proprio tesoro, con le sue vie acciottolate, i suoi caffè storici e le sue botteghe artigiane, dove è possibile acquistare pregiati prodotti locali come ceramiche, tessuti e liquori. Asolo, invece, è una piccola cittadina situata sulla collina di San Pietro, a pochi chilometri da Bassano del Grappa. Questa città medievale è conosciuta come la città dei cento orizzonti, grazie alla sua posizione panoramica che offre una vista mozzafiato sulle colline circostanti. Il centro storico di Asolo è caratterizzato da eleganti palazzi in stile rinascimentale, piccole piazze e suggestive stradine, ideali per una passeggiata romantica. Entrambe le città sono un luogo ideale per una vacanza rilassante e indimenticabile, alla scoperta delle bellezze del Veneto. Speriamo che questo tour virtuale delle bellezze del Veneto vi abbia fatto innamorare di questa regione straordinaria, ricca di storia, cultura, arte e bellezza. Non importa se sei un viaggiatore esperto o un appassionato di arte e cultura, il Veneto ha tanto da offrire a chiunque abbia voglia di scoprire la sua magia. Per ora, il nostro viaggio termina qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, per noi è molto importante. Seguiteci nei prossimi video per conoscere tante altre località suggestive ed emozionanti.